Salve a tutti amici e ben trovati, sono i vostri Mitterry ed eccoci qui ragazzi in live dopo tanto tempo Mi sono accorto da poco che nonostante non abbia fatto live il programma è rimasto invariato e quindi per molto tempo c'è stato messo il programma con video che giochevo a portare Ma anche non ho portato, vi chiedo scopi di questo, spero di poter iniziare in maniera molto più continua, senza più stop ulteriori E soprattutto spero di poter migliorare un poco nella streaming Mettiamolo così, oggi siamo qui con Death Stranding diretto Scud Ovviamente il gioco lo sto dando su Youtube ma ad un certo punto ho deciso di portarlo in live perché In questo momento il gioco inizia ad essere libero, ovviamente di giovacare per il mondo e del Death Stranding E quindi perché non portare in live con interazioni, visto che potremmo coerci il gioco al massimo in questo caso Anzi scusate, sposto un po' il microfono Però coerci al massimo il gioco che penso sia un gioco come un altro di portare dopo adatto all'open world Non sono precisi, sono secondari, ho tanto tempo per viaggiare Spero che non abbia problemi con la musica perché c'è tanta musica qui che potrebbe creare problemi con il copyright Non so se mi darà problemi con le live Però questo vuol dire che se porto sul live Quando io scarico la live e la porto sul canale non sarà più in 4k come sono finora i primi 6 episodi Death Stranding Ma saranno in full HD Visto che da Twitch io riesco a scaricare quello che c'è su Twitch Non quello che c'ho io nel gioco Non penso potrei distrarre insieme alla diretta Possibile però non vorrei solo a caricare il mio computer E quindi porto a me mi sono in full HD Vi chiedo scusa anche di questo Ma se già mercoledì Quindi per altri due giorni avremo le streaming da pronto Per essere distrato Da giovedì inizia la nuova serie Così che la live posso gestirmela come voglio io Senza avere fretta di portare forza la live Senza fretta di dover editare Insomma con la ca... più che non possibile Così che ci possiamo guardare il gioco al massimo Come sarà il corso di uscima Vorrei guardarmi questo gioco al massimo Se non so anche di più il corso di uscima Forse anche poi portare il corso di uscima su live In live Ma comunque Devi iniziare subito Quindi bando la ciance E che la live inizio Let's go Ovviamente io sarò così Mi piace molto questa visuale Anche se alla fine potremmo... Potremmo rimanere così Sì Allora io non so se c'è... Ho fatto tante cose ho fatte Non mi ricordo se... Collegare per una... Accetto un nuovo ordine Accetto logistico Ok Quindi questa regione qui l'ho fatta Quella del... Dei muli Perché purtroppo Ho spesso sbagliato Spendo il gioco Cioè che avendo... Ho entrato... Ho fatto delle logiche verifiche Ho entrato con l'account sbagliato E questo ha fatto modo Che il gioco si chiudesse Però ho tanta roba Qui mi sa che posso scollegare Tutto quello che c'ho qui Allora c'è l'ordine No Effetto consegna Che avevo sbagliato Non ho niente È strano E questo è un mio problema Perché vuol dire Che tutto ciò che c'ho Io ora addosso Che sono 41 kg Sono cose che devo portarmi con me Abbiamo una missione Raccotto i cristalli chirali Mi sembra giusto Seleziono questa missione Accettiamo l'ordine Ok Devo ottenere strumenti direi Quindi possiamo anche confermare Che ho quella che c'è Mi basta Usiamo il Conferma Ah ho dei metalli in più Vorrei quindi sistemare automaticamente Sì Cosa migliora da fare Con 6 kg I danni in casa Nel 39% Ah mostro le scale Sono più rovinate Mentre il resto Sta a posto Purtroppo Da pioggiare La cronopioggia Fa questo effetto E allora Quello che tieni in mano È un raccogli cristalli Come si capisce dal nome Ti permette di immagazzinare Il cristallo Pensavo altro È stanco Sam Ce l'ho so Ce l'ho so Grazie Artman Non è che magari Ci hai già fatto caso E sai dove andare a guardare Sì Beh 6 kg Qui abbiamo tantissimi 6 cose Raccoglio almeno 1 cg di cristallo E allora Mi ricordo che io ho già Questo gioco Per buona parte Lo trovavo già Prima Presentamente Con il gioco sul computer Poi ho di un crash Costante Nel prossimo periodo Nel sabotaggio Il gioco in pratica Non funziona più Cioè dopo un po' Così bloccava Di avere il gioco E Le otti dati Sì Meno male L'ho già fatto L'ho già fatto Qui già un po' Conosco la storia Solo che appunto Appunto Certo che Cresciava E quindi Per non voler Inizia la storia Da capo Anche il computer Aveva motivo breve Il gioco Oddio si smette Il porto Poi ho avuto La versione Prepetition 5 Che mi è ispirata Dalle l'argetto Scat Che è molto buona Quindi Why not Perché Dalla la distanza Scusami Ho già raccolto 111 cg Penso Ha fatto tutto No? Di circa Install Ok Posso andare indietro Allora Posso anche evitare La prima pioggia Che termina Tutti i parchi Ma vabbè Questo è Quanto Di essere Raventolo Semba Spero Prima possibile Di sbloccare La L'esso scheda Che Prende più forte Il nostro postino Di amazon O anche Sbloccare La moto Le macchine Che davvero Possessi in questo mondo A piedi Con un carico pesante È davvero fastidioso Sotto quando ci sono Dei Le CA O i mudi Più il CA Che i mudi In che senso Welcome Accedi al terminale Delle consegne E seleziona Ricicla Per scaricare Quest'altro Grazie Ci va lui a spiegarlo Dole rimanche Dopo Allora Di cicla E chissà Le kirai Selezioniamo E Ma io do tutti Ma che se ne freddo No Cento Solo cento Io do tutti Sono anche un peso Ma fino a noi Posso trovare l'indicito Per il mondo In cui ci troviamo Quindi non abbiamo bisogno Perché non è così bello Sembra oro Una foto di oro Sospetto una correlazione Con l'espansione Della rete Più conti di immagini Vero E va bene Questo sono un po' spedio Perché Io non faccio niente Non Dovevo vedere anche un po' Come va la chat Quindi Non sarei attento al gioco Se ho la webcam Solo per questo Va bene L'OS ovviamente Non si butta via niente Dovevo fare guadagnato Per aver riciclato Ci credo di star girare Più la prima volta Grazie Abbiamo anche uno Cosa spray Aspetta Ponte Sam Puoi depositare I cristalli chirali In eccesso In qualsiasi struttura Si aggiungeranno Alle scorte in loco Sì Non mi interessa Corriere del popolo Addirittura Mi raccomando Mi piace Ho tanti like Lavoro bene Quanto pare Il nostro fattolino Sam Port Bruce Presto le consegne minori Ok Questo è ottimo Fatto il profetto Grazie Presto la consegna Tutto questa consegna O per portare carichi maggiori Sì Ma il problema è che Muoio lentamente Penso Prima che mi dimentichi Questo è per te Che me da Oh trovo carichi Questo è lo spray riparatore Per aggiustare le casse dei carichi Ah ok Perfetto Se noi arriviamo Una spedizione Abbiamo molto Danneggiamento E la crono pioggia Passa lo spray Tutto si sistema Questo è molto buono Dire Sì Sì Grazie mille Direi perfetto Questo Per fare spedizioni E avere vote più alti Nel tutto Alla prossima Alla prossima Trovati di Pilarium E una maggiore formazione Di cristalli Potrebbe essere dovuto All'espansione della rete Nulla di cui preoccuparsi La densità tirale del luogo Rientra ancora nei parametri Se ne trovi altri Raccogli Sarai ricompensato bene Se trovi dei cristalli tirali Puoi depositarli In una delle nostre strutture Puoi depositare anche altre risorse E qualsiasi oggetto Che non ti serve più Ogni cosa ha un valore Quello che non possiamo usare Così com'è Può essere smantellato Per la RS E altro ancora Vabbè Noi diciamo che siamo Nel grande tutorial Accetto l'ordine Accetto logistico Sì se è questo Quindi possiamo Facciamo un altro ordine Ma O deve essere Ma Ok Parque olico Perfetto Si inizia Di nuovo con la story Come cerca di connettere L'amorica Accettiamo Assolutamente Il progetto del ponte È nel tuo ccp Sì Vabbè sì Sì Cosa sappiamo che Per fare i ponti Dobbiamo averci il fiume Se siamo nel ponte Stiamo attenti Per i materiali Tutte le cose Sembra che abbiamo tutto Mi sembra Sia il ccp Che i materiali No Due Tre Saltiamo tutto va E un attimo Amico mio Ok Mentre va a costruire Non c'è una padella Di covo E sotto Calma Sempre Via qui Perché cade È esagerato Sempre Da quel di qua Zitto Dai Su Ecco fatto Non è che il reale Si prende perché Il materiale è molto utile Possibile fare qualche cosa Armini Se non mi dicono male Dai su Corriamo Ragazzi si va Alla sfezione Davvero splendido Che c'è sta qui Ah ha fatto qui Qui Si ricordo male Ecco Quando Un Giocatore Fa Fatti Tante Piplin Calcano i funghi Così Virtuali Per dire Guarda Non sei l'unico Qui c'è tanta Che si galleggia Tanto Effetto Heat Proprio Intervento È veramente Difficile Monzi Qui Ed eccole Qui Ci ha In arrivo Quanta ansia Questa Che Però Davvero Un bruttissimo posto Per un'altra Anche perché poi È bassa Non è che ho metto una montagna È proprio bassa E ce la sono lì di fronte Mamma mia quant'ansia da questo gioco Ci sto avvicinando E se ci fermiamo è peggio Che ci fermiamo con lì Si avvicinano un po' a noi Non sono già stanchi Chi è che chiama? Sai quanto me ne frega a me Delle cazze In questo momento Che poi mi chieda sempre Questo gioco Questa Questa Sprecie di radio Che ci dice La zona è CA Non Dovrebbe attirarli In qualche modo Ok Sta da questa parte Forse da sopra Dobbiamo stare attenti Stiamo circolando in pratica Porca paletta Vabbè Sì Bisogna spuntare avanti Che fortuna Zitto Sam Zitto Sam Che quello ha sbagliato Via Ha sbagliato L'ho sbagliato Guarda come ci cerca Guarda come ci sta cercando Statti lì Statti lì Non occupa Ok Siamo vicini Lo facciamo davanti a noi Forse Sì Siamo circondati Ho capito Ho capito Zitto Sam Non resisti Più che puoi Resisti Bello mio Resisti 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 Ok Eh c'è molto Qui davanti Ma che spiga Però Dove sta Eh vabbè Eh ma ne vado Perché si è visto Si è visto Arrivederci Guarda come ci seguono Quelli Guarda come ci stanno Seguendo Si Li sgraiti Mamma mia Mamma mia Ok Qua è finito tutto Vero Siamo al parco Poi ricordo Non c'è un modo per lontanare Ci Ah dai Lughe abitati Che dice lui Ok Mamma ci abbiamo fatto Il BB però è molto ansioso Come si fa a cambiare il BB Mi ricordo Aspetta Ecco così Questa cosa è bellissima Guarda come Lui si calma Con la Senza ci fa tipo da Da Cullo Che amiamo un po' Che se no Se questo va a stressare Poi Calmati Piano 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 Così Piano L'uscita I cuoricini Vabbè Penso Non si fa così Come fa Si è aumentato meglio Non ci credo Mi ha fatto dormire Ok Allora In teoria Potremmo T0 Ora Il Dove si trova Dove si trova Il laser Il laser Beh Lo spray Dimmi che Non c'ho Con me Il coso Carico No Non c'ho Vabbè Così pazzi Non c'ho lo spray Ma com'è che mi sono ticato Com'è che mi sono ticato Io ho fatto il più di occupare C'è mancato poco Andiamo a fare Staspezione Che è meglio Ragazzi Ci ben 30 kg Che sono Davvero tanto Tanto Intimo terminale Consegna carico Grazie Con questa unità Possiamo alimentare Il centro logistico Con la rete chirale E anche altri posti Se funziona Spero che le UCA Usino bene La nostra elettricità Posso guardare Incredibile Com'è fatto a portarlo Hai volato Non volato Ma Fottimi lavoro Andiamo contimi da ora S Perfetto Due stelle Siamo Ora ci serve Solo una connessione Alla rete chirale Dai Dai Questa è quella Che posso più Peperisco Ha un bel effetto Diciamo Ok Ok un'altra zona liberata Sam La larghezza La larghezza della banda Di rete è limitata Ogni struttura Che costruisci Ne usa un po' Però Se aumenta Il tuo livello Di connessione Aumenterà anche La larghezza di banda Disponibile Quindi è un'altra Quindi è un'altra Quindi è un'altra Come dire Aumentare la potenza Non ci sta raccolta Va bene Che posso usare Che posso usare Per costruire Per costruire Generatori Tra l'altro Aggiunto Non funziona Nella tua Meta link Richiesta Di provviste Bridger links Accetto Ordine Effetto Consegna Blah blah Oh fly Quanta roba c'è qui Ma potreste stare Stuttura Sì Vabbè Grazie a te Spero che Amelie Se la cavi come te Chissà se ha raggiunto Agenot City Lei ci ha affidato Il parco eolico Stavo nelle retrovie Amelie ci guidava Non l'ho mai vista Di persona Ma è stato un onore In viaggiare con lei Quando la vedi Dille pure Che te l'ho detta Ma che ci provi Sam Hai un momento? Ho condotto Un esperimento Col tuo sangue E ho rilevato qualcosa Dopo aver disperso Un campione Vaporizzato Del tuo sangue Nel territorio Delle CA La loro attività Si è ridotta Anche se non è Un risultato definitivo Dato che non abbiamo Altri riemersi Con cui fare ulteriori test Sembra che I fluidi corporei E dei riemersi Siano un repellente Per le CA Mamma sta sviluppando Un'arma Per verificare Questa teoria Il prototipo È quasi pronto E quando lo sarà Vorremmo che lo collaudassi Cioè lo tu devo fare Sam Questa è l'opportunità Perfetta Abbiamo quasi tutta La regione Sulla rete chirale Manca solo Portnot City Torna a Capital Not City A raccogliere Gli aiuti Per Portnot Ah pure Quando arriverai Ti daremo il prototipo Completo di persona Un'ultima cosa È raro Che i corrieri Arrivino a quel barco eolico Già che vai lì Dovresti raccogliere Tutti gli ordini In sostituito Non ha senso Tornare a mani vuote Se c'è ancora Del lavoro da fare Certo Preferire Inizialmente Perché E anche Non avevo anche Il suo scherzo Migliorato Sì Sì Eh certo Non è così Sebbene non siano Missioni cruciali Per qualcuno Sono importanti È pur sempre Una buona azione No? Allora Vediamo un po' Cosa si tratta Consegna Assumenti Per il settore L'alimentare elettrica Ma dovevo andare? Al centro logistico No? Ah Quindi ho messo Per migliorare La velocità Del Devele strutture Secondari Diciamo Però Ecco Scriviamo 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 Di macchinari In pratica Tutti i suoi Macchine In trasporto Come appunto Ambo Abbiamo visto Lì A generale Logistica Sono tutte Elementate Eletricamente E qui Se mettiamo Un generatore Potremmo Potremmo Utilizzare In qualche modo Speri Per il ragazzo Dammi Le 4 Mi servono Ok Tutto Allora Sistema Tutto Porta A mano Allora Sistema Tutto Sistema Tutto Sistema Ok Siamo a Quanto I muri Che sono A 50 Tutto E scendono Tanto 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 Ma Uso Questi L'ultima Volta E poi In caso Li cambiamo Che anche Questi Fanno Puro C'è Vedi Abbiamo Pensato E Scarpetto Damson Delivery La Ferra Ma intanto Per se Permettete Voglio Fare Una cosa Importante Ossia Ecco Siamo Motare Plin Plin Lasciamo Qui Tra L'albero Non c'è Sono Che Ci Osserva Ma Non Spero No Dai Perché No Io non è Il campo Del CA Per fare Questo Comunque È Grosso Con Il fungo Quanto È Grosso Più Si Fa Più Il fungo Grosso Grosso Però Adesso Andiamo E Consiglio Un poco Di Questo Urinare Che Possibile Come Arma Contro Il CA Perché Tutto Delle Tipo Utilizzare Qui È Quale è Un ponte Non c'era Prima O Mi Sbaglio È Questa Sì Questa Strada Fantastico Vabbè Questo È Bad Destiny Con La Con Tutti I Videogiocatori Ovviamente E Queen Il CA Con La Con Tutti I Videogiocatori Ovviamente C'è Tanti Benefici Per Ognuno Di Noi Allora Qua c'è Anche Un box Bellissimo Non so che Quando giocavo Con la pc Non mi Connetteva Bene Quindi Forse Non riuscivo A dare Questi Benefit Tipo Appunto Di Le costruzioni Dei Vari Videogiocatori Grande Zio Ti Soda Pure Vediamo Un po' Se Le Basta Un po' Per evitare Che Le Ce Ci Attacchino Ma io Metto Mi Piace A Questo Uomo Ha Fatto Un Miracolo C'è 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 Una Grande Cosa Ok Una Piccata No Metalli Si Prenderei Così Quasi Lì C'è La Nostra Corda Vediamo Che Proprio Sono 50 Kili Se Ricordo Ma Però Sono Molto Utili Anzi Sono 5 Kili E Quello Picco Diciamo Dunque È vero Buono Questa Cosa Buona Sapersi Potete Anche Qui La Nostra Corda E Si Scavalca Vedere Così Costirò Mille Ponti C'è Ragazzi Se Vostate Le C'è Con I Ponti Why Not Arrampicati Ecco Questa L'utile Questo C'è C'è